ragazzi questo è il primo video di questo canale andiamo a fare una prova non ridere con questo e vi voglio dire l'ultimo vediamo questo io vediamo Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ciao raghi, ciao.